segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te guardavo queste due immagini da una parte il servizio che avete fatto sulle dichiarazioni per carità legittime dei leader politici in campagna elettorale e parlavano come se fossero dei cittadini cioè noi faremo questo noi faremo quest'altro ma governano e continuano a governare lo stesso presidente mattarella ha detto a draghi guarda ci sono cose urgenti falle subito e poi vedi il popolo san basilio basta girare per strada e rendersi conto che queste sono veramente parole se avessero voluto veramente colpire gli extra profitti facevano una norma adeguata con tassazione al 90 per cento e le andavano a prendere se volevano veramente mettere il tetto come è stato fatto in spagna lo mettevano se volevano mettere il salario minimo come hanno fatto spagna e portugale lo mettevano se volevano colpire grandi ricchi io sono convinto che tanti grandi ricchi in un momento così difficile possono anche fare un sacrificio nei confronti che è maggiormente in difficoltà anche sulla guerra come è possibile il governo italiano che ha una sua storia diplomale non ha messo a terra una proposta di mediazione e putin non ha ancora tolto il gas putin non ha ancora tolto il gas quindi se non ci sarà una svolta e col prossimo governo e chiudo monti letta e meloni sulla guerra non ha la stessa posizione quindi noi rischieremo ancora peggio noi dobbiamo togliere i super ricchi e dare a chi sta in difficoltà la prima misura da fare no dico meno male